ragazze buonasera buonasera ancora una volta con una diretta bella che improvvisata però sentivo proprio veramente queste dirette sono spinte dalla dall'urgenza di veicolare un messaggio e questo messaggio diciamo che vi voglio portare oggi deriva da una da un come dire una dinamica che noto molto spesso anche con le mie clienti e che ovviamente ho attraversato anche io e si tratta soprattutto di è un modo secondo me che non hai mai sentito perché quando si fanno video sulle relazioni si pensa sempre appunto a non viene trattato questo argomento ecco non viene trattato lo so benissimo questo è un problema diciamo principale delle delle donne che allora ciao picchio buonasera siccome oggi vado un po di fretta tra dieci minuti mi devo collegare devo fare un collegamento cercherò di essere più breve possibile però a volte è complicato allora questa cosa qui di dipendere dagli uomini molte volte ho notato che succede a delle donne magari che ecco che lavorano tanto e che poi diciamo si sentono danno troppo danno molta importanza ecco al lavoro e buonasera anche a Emanuela e poi però che succede quando noi diciamo diamo troppa importanza a qualcosa che si trova fuori di noi come in questo caso il lavoro che magari mettia mettendo il lavoro come valore principale ci dimentichiamo di tutto il resto ci dimentichiamo anche di noi stessi quindi che succede magari abbiamo una giornata lavorativa molto molto piena poi diciamo il cibo non viene visto come un valore quindi ci rimpensiamo di schifezze ok poi torniamo a casa stanche da morire magari ci abbiamo i bambini e sempre per 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 fretta insomma per fare più cose possibili nella stessa giornata continuiamo a mangiare cibo che non ci fa bene ok e quindi che cosa succede che quando incentri la tua vita sul soltanto sul lavoro cioè metti solo il valore il lavoro come valore principale ti scordi di tutto il resto e che cosa succede succede che per colma cioè siccome la vita non è fatta solo di lavoro no c'è la vita infatti c'è un esercizio che amo fare che si chiama la ruota della vita e ti fa vedere questa ruota della vita come la vita in realtà è fatta di tante altre cose cioè non solo di lavoro ma anche di relazioni di famiglia di benessere fisico di avventura di di interessi di passatempo insomma ci sono tante cose che compongono la nostra vita quando noi mettiamo il lavoro al centro della nostra vita succede che tutte le altre aree diciamo se ne vanno a farsi benedire ok e che cosa c'entra questa cosa col fatto di essere dipendenti dagli uomini c'entra perché aspettate non so se se prende il telefono si mi sembra di sì ok quando facciamo quando mettiamo il lavoro al centro della nostra vita che cosa succede che inizia c'è dentro di noi c'è un vuoto ok iniziano a venirci dei vuoti dei vuoti vogliamo colmare dei vuoti delle delle carenze dentro di noi no e che come li colmiamo o iniziamo a buttarci appunto come ti ho detto prima sul cibo quindi a rimpinzarci di magari biscotti biscottine cioccolate roba varia merendine oppure iniziamo a pensare ma se ci fosse un uomo nella mia vita tutto questo sarebbe diverso quante volte ti è successo a me è successo diverse volte e anche a delle mie clienti è successo varie volte e che cosa è successo quando praticamente abbiamo lavorato insieme è successo che abbiamo io ho capito che il loro problema non era semplicemente cioè loro stavano male non perché volevano un uomo o perché l'uomo era diciamo la cosa che le avrebbe rese veramente felici ok sebbene io dico cioè il mio lavoro è questo cioè nel senso il mio lavoro è quello di aiutare le donne proprio a rendere cioè a rientrare nella loro energia femminile per attirare uomini maschili e quindi non freddi e distaccati che ci fanno penare che ci fanno entrare a noi nella nostra energia femminile quindi che cosa è successo che io avendo capito qual era la chiave di disvolta perché è successo anche a me è successo che io nei momenti in cui mi sentivo molto dipendente emotivamente da un uomo era anche perché stavo trascurando rullo di tamburi la mia alimentazione questo te lo dico perché quando io vado a toccare il tasto alimentazione e benessere fisico quando faccio coaching one to one con le mie clienti quest'area è proprio l'ultima cioè non ci si pensa dice no ma il problema sta nella mente il problema è che io sono dipendente da da questo da dagli uomini ma in realtà il problema sta nel corpo ok perché non è che noi siamo fatti solo di me siamo fatti come essere ma c'è un essere umano è fatto dalla mente ma soprattutto dal corpo e il mio lavoro sull'energia femminile l'energia femminile sta nel corpo ok quindi se noi trascuriamo questa cosa del corpo e dell'alimentazione cadiamo molto più facilmente nella trappola di attirare uomini freddi che all'inizio ci fanno love bombing che poi dopo scompaiono nel nulla e quindi che cosa dobbiamo cioè che cosa che cosa è successo a queste clienti con le quali ho lavorato anche sulla nutrizione perché io sono fatto anche dei master sull'alimentazione sono sempre stata appassionata di alimentazione e abbiamo lavorato molto sull'area dell'alimentazione e è successo che c'è stato cioè andando a sbloccare l'aspetto della nutrizione c'è stato proprio un cambio di energia da che loro sono venute da me tutte afflosciate scariche a volte nemmeno si riuscì cioè proprio ma alcune con alcune donne mi ricordo proprio che parlavano proprio con voce bassa molto lentamente cioè si vedeva proprio che c'era un'energia bassissima quando abbiamo lavorato sull'aspetto energetico del della quindi del corpo e quindi sull'aspetto del cibo ciao ale piano piano vi saluto tutte quante intanto saluto maria rita sabrina picchio che ha scritto una cosa bellissima la vita in magia sgombriamo gli entrarci dalla bacchetta magica sì picchio poi magari faremo un'intervista con te così ci spieghi meglio cosa vuoi dire perché qua va sviscerato la va sviscerato quando siamo andati a lavorare anche sull'aspetto dell'alimentazione cioè la tua energia perché noi siamo fatti di energia raga è quello che mettiamo nel nostro corpo di noi diventiamo cioè se noi mettiamo roba morta solo zuccheri semplici solo farine raffinate schifezze noi diventiamo quella energia di schifezza ok e quindi che cosa mai vogliamo attirare con quell'energia così bassa non possiamo attirare niente attireremo altre persone come che vibrano basse come noi quindi magari persone ti ripeto uomini narcisisti uomini che se ne fregano di noi perché noi vibriamo quella roba lì cioè lo so e forse è un po non l'avete mai sentita questa cosa o non l'avete mai collegata perché però se voi ci pensate bene succede proprio questo che il cibo molte volte diventa la chiave di svolta per attirare persone che vibrano alte come noi ok e e che cosa è successo per esempio a una mia cliente che ha iniziato a cambiare l'alimentazione anche attraverso il percorso che abbiamo fatto insieme ha iniziato praticamente a sentirsi molto più energica infatti proprio mi ricordo il tono della sua voce è cambiato cioè era tutta pimpante e addirittura si è presa così diciamo cura di sé che è arrivata a farsi un book fotografico non me lo potrò mai scordare questa è una cosa bellissima e poi ha iniziato a investire tanti soldi nell'aspetto fisico cioè nella cura di sé proprio nella cura della pelle e ha smesso poi come terzo vantaggio di focalizzarsi soltanto su quell'uomo che le piaceva ma ha iniziato a ad espandere diciamo la sua i suoi interessi ok ha smesso di avere quel chiodo fisso verso quell'uomo semplicemente perché raga il cibo ripeto il cibo che mangiamo è energia e se noi ingeriamo quel tipo di energia bassa che è quella fatta appunto da tutta sta roba confezionata tutti questi dolci merendine cose precotte pre confezionate noi diventiamo quel tipo di energia la e è inevitabile che i nostri pensieri anche saranno bassi e quindi che staremo impallate mentalmente con un uomo cioè è molto più facile essere dipendenti emotivamente e fissarsi su un uomo quando la nostra energia è molto bassa perché abbiamo perché non ci prendiamo cura di noi soprattutto a livello alimentare rispetto a una persona che invece inizia a prendersi cura di sé soprattutto dal punto di vista del cibo e si smette molto più facilmente di sentirsi emotivamente dipendenti molte ricerche anche poi ho visto lo dimostrano questa è una cosa che avevo collegato che ho collegato io in base alla mia esperienza in base all'esperienza delle mie clienti però poi effettivamente andando a fare delle ricerche ho notato che questa cosa è confermata proprio la relazione tra la codipendenza cioè tra il fatto di sbavare continuamente di pensare ad avere il chiodo fisso su su delle persone su degli uomini e far dipendere la nostra felicità dagli uomini e la 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 povera si dice pur nutrition cioè sull'alimentazione povera cioè nel senso su un tipo di alimentazione che non nutre la nostra anima non nutre le nostre vibrazioni non ci fa vibrare alto ok picchio scrive credo che ci siano almeno due modi per vibrare in alto e verso l'alto come cima di una montagna come nuvola come cima di una montagna come nuvola è vero si poi dobbiamo sempre contestualizzare vediamo che cosa che cosa tu intendi per cima di montagna o nuvola e perché la montagna mi fa pensare a qualcosa di molto solido e alto e quindi vibra alto e la nuvola è qualcosa di molto leggero quindi mi fa pensare a questa cosa tra solidità e leggerezza comunque poi una volta che tu inizi a mangiare bene ma mangiare bene non significa non significa sacrificare il gusto ora sto leggendo un libro meraviglioso che si chiama pleasurable eating peccato che sia soltanto in inglese raga perché fantastico questo libro magari qualche volta vi leggo qualche passo e dice proprio come sbloccare la cioè come dimagrire come perdere peso come come riacquistare il nostro peso normale attraverso un modo di mangiare piacevole godurioso ok quello che poi l'energia femminile quindi voglio sapere da te adesso se ti risuona questa cosa quindi magari mi puoi scrivere nei commenti fammi sapere che cosa ne pensi e purtroppo devo chiudere la diretta anche se mi mi avrebbe fatto piacere continuare ma ho un altro appuntamento e quindi ecco ti aspetto nei commenti fammi sapere anche tu che cosa ne pensi di questa cosa del del legame tra il fatto di mangiare sano ma anche in maniera gotoriosa e il fatto di smettere di essere di far dipendere la nostra felicità dagli uomini ciao raga